buongiorno a tutti giro d'italia 2023 presentazione del percorso e chiaramente l'abbiamo già fatta nel qualche mese fa quando appunto è stato svelato il tracciato di questa edizione 2023 ma adesso che siamo ormai a due giorni dall'inizio della corsa rosa questo appuntamento attesissimo insomma da tutti gli appassionati di ciclismo da tutti voi che seguite questo canale appunto vi proponiamo questa questo speciale appunto dedicato al percorso del giro d'italia in realtà è cambiato pochissimo rispetto alla presentazione a differenza di quanto accaduto negli anni precedenti in cui c'erano stati anche cambiamenti piuttosto significativi ricordo a tutti che per quanto riguarda le corse dal 2018 al 2022 quindi i grandi giri come come dice il canale ciclismo grande g ma non solo le potete trovare su telegram sul canale che si chiama appunto ciclismo grandi giri e che tutte queste cose chiaramente non possono essere pubblicate su youtube per motivi di copyright bene bando ai preamboli ricordo infine che domani realizzeremo un altro video con la presentazione invece della start list una start list che è quasi definitiva come al solito manca la education first che come da tradizione l'ultima ad annunciare il proprio roster che si schiererà e al via del di questo giro l'italia 2023 bene partiamo prima tappa e si parte dall abruzzo cronometro 19,6 chilometri da fossa cesia a ottona una cronometro come possiamo vedere interamente pianeggiante per i primi 17 chilometri e mentre invece è più mossa negli ultimi 2800 metri sul traguardo e posto anche un gran primo della montagna di quarta categoria che assegnerà anche la prima maglia blu quindi di classifica degli scalatori ma è una prova fondamentalmente per specialisti questo giro d'italia abbastanza chilometri a cronometro se pensiamo agli standard odierni se pensiamo al tour de france che una sola crono di 22 chilometri per altro non per specialisti e certo se pensiamo invece agli standard del passato non sono assolutamente tanti i chilometri a cronometro e sa di fatto che a molte squadre hanno scelto di portare al giro d'italia uomini appunto competitivi contro il tic tac e magari hanno diottato scato ai puoi sul tour passiamo alla frazione numero 2 da teramo a san salvo una tappa abbastanza lunga 202 chilometri in abruzzo ci sono delle salite nella parte iniziale centrale salite brevi anche abbastanza impegnative pensiamo a quella di chiedi dove tra l'altro ci sanno verranno assegnate gli abboni del loro sprint intermedio però gli ultimi 70 chilometri sono completamente pianeggianti dovrebbe essere quindi una frazione per velocisti passiamo ora alla terza tappa da vasto a melfi quindi arriviamo in basicata una tappa abbastanza lunga 213 chilometri caratterizzata da un finale piuttosto mosso con in rapida successione le salite del valico dei laghi di monticchio e del valico la croce salite di terza e quarta categoria non particolarmente 2 che però potrebbero escludere dalla lotta per il successo parziale alcuni velocisti puri tra l'altro in queste zone spesso e strade non sono in grandi condizioni quindi qualora dovesse esserci brutto tempo in particolare la la situazione dove potrebbe farsi difficile diciamo che gli uomini di classifica dovranno comunque sempre stare davanti passiamo alla quarta tappa la prima tappa veramente impegnativa di questo giro una tappa che va da venosa al lago laceno non c'è quasi un metro di pianura anche se le salite che precedono quella finale di colle molella non sono durissime salite come il passo delle crocelle il valico di monte caruozzo la salita più dura è appunto l'ultima con la vetta posta a tre chilometri dal traguardo ricorderete nel 1998 con pantani che andò l'attacco insieme anche a michele bartoli ma poi ci fura il contrattacco di zul che andò a vincere solitaria e diede l'impedire una grande impressione quel giorno ma poi crollerà sulle dolomiti ricordate tutti appunto marco pantani che vinse quell'edizione della corsa rosa e poi ricorderete anche nel 2012 arrivati qui con posto vivo che fece quasi profeta in patria lui che è lucano anche se lago laceno in provincia di avellino posto vivo che riuscì a staccare tutti l'anno in maglia rosa c'era ecita che poi riuscì a conquistare quelle coedizione al giro d'italia nonostante che ebbe difficoltà proprio sulla salita di lago laceno salita di lago laceno che andiamo a vedere o meglio di colle molella una salita che rappresenta pendenze importanti soprattutto tra il quinto l'ottavo chilometro con una media del 9,4 per cento punte del 12 mentre la parte iniziale è più pedalabile comunque il primo vero banco di prova per gli uomini di classifica se qualcuno non fosse arrivato al giro in al top della condizione rischierebbe di rischiare di pagare secondi preziosi appunto in questa frazione passiamo alla quinta tappa da a tripalda a salerno una tappa piuttosto impegnativa nella prima parte si arriva fino ai 972 metri di di guardia lombarda 972 metri di altitudine però poi c'è tanta discesa e soprattutto pianura negli ultimi 40 chilometri quindi questa in realtà è una tappa per velocisti anche se se la devono guadagnare soprattutto quelli che fatigliano di più in salita e questa è una caratteristica di questo giro d'italia ci sono tante tappe sulla carta per velocisti ma con salite nella prima parte nella frazione anche piuttosto impegnative e anche se non è questo il caso del nel caso della tappa di salerno dove a parte il passo sera posto proprio in avvio sono tutte salite decisamente pedalabili andiamo alla frazione numero 6 e appunto per ribadire quanto detto in occasione della tappa di salerno tappa numero sei in cui c'è la partenza e arrivo a napoli ma su un tracciato completamente diverso rispetto a quello di un anno fa e al chilometro 48 si arriva al famigerato valico di chiunzi su cui pantani cadde per non investire un gatto diciamo nel nel mio 297 fu costretto a ritiro pantani probabilmente avrebbe vinto anche con l'edizione della corsa rosa invece nei rimpossi fu un altro italiano i vangotti poi c'è il picco sant'angelo fu affrontato in passato sempre nel 91 addirittura siamo nella penisola sorrentino si transita appunto da sorrento però il finale è completamente pianeggiante quindi ribadiamo quanto detto per la frazione salerno tappa per velocisti ma se la devono guadagnare passiamo alla settima tappa e si torna in abruzzo e si torna con un importante arrivo e salita infatti da capua si arriva a gran sasso e una tappa lunga 218 chilometri la salita finale è lunghissima praticamente 45 chilometri anche se poi e quelli veramente impegnativi sono solo quelli che portano a calasco ai meno 33 dal traguardo e poi gli ultimi 5 6 chilometri però attenzione anche qui in caso di brutto tempo la tappa potrebbe rivelarsi molto impegnativa siamo a 2130 metri da queste parti spesso fa piuttosto freddo e nel 2018 c'era bel tempo però un corridore come chris frum andò in difficoltà perse un minuto rispetto ai diretti rivali però poi riuscì a riprendersi a vincere sul zoncolan soprattutto a fare l'impresa nella tappa di bardonecchia con il corde delle finestre e a vincere quel giro d'italia la tappa del grassasso per la cronaca fu vinta da simon yates che quest'anno tra l'altro non ci sarà un simon yates che dominò una parte di quel giro d'italia per poi appunto collare sulle alpi pirontesi andiamo a vedere le salite finali questa è l'ascesa di calascio una salita regolare di circa 15 chilometri con una pendenza media del 6 per cento 13,5 chilometri per l'esattezza poi ci sono tanti tratti in falso piano anche leggera discesa e questa appunto l'ascesa finale che è veramente impegnativa solo negli ultimi cinque chilometri che presentano una pendenza dell'8,2 per cento con punte al 13 a circa un chilometro dal traguardo comunque sarà sicuramente un importante banco di prova anche questo i big il secondo dopo l'agroaceno e dopo ovviamente la cronometro inaugurale in quel di ortona passiamo all'ottava tappa da terni a fossombrone anche questa una tappa piuttosto lunga 207 chilometri e si finisce nel pesarese e ci sono diversi muri piuttosto impegnativi e anche il monte delle cesane che è ben più di un muro e una salita vera molto dura soprattutto nei primi chilometri andiamo infatti a a vedere che cosa si prospetta questa frazione questo è appunto l'ascesa del monte delle cesane i primi tre chilometri presentano pendenze con costanti intorno al 10 per cento con punti al 18 poi spiana un po e anche il finale comunque piuttosto impegnativo e poi c'è lo strappo dei cappuccini che è uno strappo breve di 2,8 chilometri a 7,9 per cento ma con punti addirittura del 19 e pendenze costanti intorno al 10 appunto nella sua ultima parte e ricordiamo che l'ascesa termina a soli 6 chilometri dal traguardo quindi anche gli uomini di classifica potrebbero alcuni uomini di classifica potrebbero riuscire a fare un colpo di mano e guadagnare qualche secondo su diretti rivali e qualora così non fosse questa sarà sicuramente una tappa da fuga perché ovviamente i velocisti non hanno nessuna possibilità di tenere sul cesane e né tantomeno sui cappuccini viste le pendenze che presenta l'ultimo chilometro di questo strappo nel pesarese passiamo ora alla nona tappa che una cosa via importantissimo per questo giro dopo ci sarà il giorno di poso una cronometro completamente pianeggiante e piuttosto lunga 35 chilometri da savignano a cesena e un qui un corridore come venepul ecco per citare quello che ha detto di tutti il grande favorito potrebbe guadagnare terreno su molti dei diretti rivali magari meno nei confronti di gente come rovic come thomas come almeida gente che ha cronometro comunque la forte però rispetto agli scalatori puri uno come venepul può guadagnare anche due o tre minuti e che non saranno poi facili da recuperare sulle grandi montagne anche se di grandi montagne ce ne saranno abbastanza e le vedremo tra poco in questo giro d'italia giorno di riposo quindi dopo di che si riparte con la decima tappa da scandiano a viareggio si arriva fino ai 1527 metri di quota del passo delle radici anche se non è una salita dura presenta dei tratti appunto all'insù intervallati da diversi passo piani tratti anche in discesa mentre invece decisamente più semplice la seconda parte della tappa gli ultimi 70 chilometri sono pressoché interamente pianeggianti e quindi ancora una volta ribadiamo quanto detto in per alcune delle frazioni precedenti tappa per velocisti ma se la devono guadagnare andiamo alla tappa numero 11 da camaiola a tortona 219 chilometri è l'etapa più lunga di questo giro d'italia senza grandissime difficoltà perché nel passo del bracco nella colla di ome di boasi nel passo della costagnola posto a 40 chilometri dall'arrivo sono salite durissime anche qui i velocisti dovrebbero riuscire comunque a superare queste difficoltà però non non sarà mai facile le loro formazioni controllare la corsa e quindi non è escluso che la fuga di giornata possa arrivare al traguardo in questa come in altre tappe che abbiamo analizzato precedentemente passiamo alla dodicesima tappa da bra arrivoli una tappa per certi versi simili a quella che ha preceduta se non fosse che la maggiore difficoltà di giornata il valedì e colle braida e una salita vera che taglia fuori velocisti anche considerando il fatto che la vetta è posta a 28 chilometri dal traguardo quindi non tantissimi tutto sommato salita di colle braida che andiamo ora a vedere in dettaglio ecco qua una salita di 9,8 chilometri a 7,1 per cento ma con pendenze più impegnativa soprattutto negli ultimi cinque una punta del 12 una salita in cui difficilmente gli uomini di classifica si muoveranno anche alla luce di quello che proporrà la giornata successiva ma una ma una salita appunto che esclude i velocisti dalla lotta per successo probabilmente in questa tappa andrà via la fuga andiamo a vedere ora la tredicesima tappa il primo vero grande tappone di questo giro d'italia una frazione anche piuttosto lunga 207 chilometri da borgo franco di vea a cram montanà con tre salite importanti il gran san bernardo cima coppia di questo giro con i due fuori 2469 metri di quota seguito da un'altra salita durissima la croix de coeur e poi ci sarà l'ascesa finale e affrontate più volte al giro di svizzera che porta a casa montanà una tappa durissima peccato per i 22 chilometri di pianura che ci sono tra la fine della discesa della croix de coeur e l'inizio della salita di gran montanà che potrebbero scoraggiare degli attacchi da lontano e nonostante che le prime due salite ripeto siano durissime sarà importante il ruolo delle squadre chiaro che se qualche uomo di classifica avesse corridoi in fuga che posso tirare appunto in quei 22 chilometri di pianura allora sì che potrebbero esserci degli attacchi già sulla già soprattutto sulla quale che più che sul gas a bernardo che chiaramente ancora piuttosto lontano dal traguardo tra l'altro la salita di quale che altro non è che la continuazione di cura di verbier dove ricorderete ad esempio contador staccare tutti compreso il suo compagno rivale dai samsung al tour de france del 2009 tutto che poi fu vinto dal fuori classe e madri leno andiamo a vedere in dettaglio quindi queste salite il gran san bernardo una salita interminabile di 34 chilometri al 5,5 per cento ma molto due soprattutto negli ultimi venti chilometri pendenze mai esagerate non si arriva quasi mai al oltre il 10 per cento però la lunghezza della salita e l'altitudine si fanno sicuramente sentire le gambe dei corridori e poi come abbiamo detto c'è la durissima quale una salita costante di 15,4 chilometri all' 8,8 per cento ma che tutto sommato diventa pian piano sempre più dura con l'avvicinarsi della vetta la punta massima del 13 proprio in prossimità dello scollinamento a un chilometro dallo stesso e poi c'è la salita finale non durissima di gran montana una salita che ha fatto più volte selezione comunque al giro di svizzera ma mai grandi distacchi una salita regolare 13,1 chilometri a 7,2 per cento spiana un po solamente nell'ultimo chilometro ma sicuramente una tappa in cui gli uomini di Cassifio usciranno allo scoperto e ci saranno dei distacchi perché anche qualora non dovessero esserci attacchi nelle prime due salite queste si faranno sentire nelle gambe degli atleti in occasione dell'ascesa finale ricordiamo anche che è una tappa piuttosto lunga 207 chilometri passiamo ora alla quattordicesima tappa da sierra a cassano maniago quindi si rientra in italia chiaramente per rientrare in italia dalla svizzera bisogna quasi inevitabilmente per la conformazione del territorio scalare il passo del sempione però dalla vetta mancano 138 chilometri dal traguardo c'è tutto il tempo per recuperare difficilmente una squadra si metterà a menare sul sempione per eliminare velocisti delle formazioni avversarie e quindi questa passione concluderà probabilmente in realtà con una volata di gruppo andiamo ora alla quindicesima tappa che però prima di essa ci sarà il secondo giorno di riposo o meglio non ci sarà il giorno di riposo che sarà previsto successivamente si sarà previsto dopo questa quindicesima tappa quindi mi scuso per l'errore quindicesima tappa che comunque piuttosto impegnativa da serenio a bergamo il fatto che ci sia il giorno di riposo potrebbe incoraggiare la battaglia tra i big anche se in realtà è l'ultima vera salita all'ascesa della roncola e possa 30 chilometri dal traguardo e poi ci sarà solo uno strappo di bergamo alta questo strappo diciamo suggestivo affrontato più volte al giro di lombardia ma che non ha mai fatto grandi distacchi in realtà nella corsa delle foglie morte e tantomeno al giro quando è stato affrontato già in passato penso al 2007 penso se non ero anche al 2017 comunque ci sono altre tre salite importanti lungo il percorso il ballico di valcava che anche la più dura ed è seguita da una discesa piuttosto tecnica e poi rapida successione l'ascesa di servino dove toni rominger vinse una crono scalata nel 95 e dominò poi con l'edizione del giro d'italia e a seguire l'ascesa di miracolo san salvatore e andiamo a vedere quindi queste salite questo è il barco di valcava appunto una salita di 11,6 chilometri all'otto per cento ma molto dura nella seconda parte con punto del 17 poi c'è il servino che una salita regolare di 11 chilometri al 5,6 per cento è più impegnativo anche se più breve il la salita di miracolo san salvatore con una punta del 12 per cento e 5,2 chilometri a 7 complessivamente e poi l'ultima vera salita come abbiamo detto della roncola roncola alta per l'esattezza una scesa di servi di 10 chilometri a 6,7 per cento che però spiana negli ultimi due la parte centrale molto dura con una punta addirittura del 17 è costantemente una scesa costantemente all'otto per cento 8 9 per cento nella sua parte centrale dopo la tappa di bergamo ci sarà appunto il secondo giorno di riposo secondo e ultimo e poi si parte col botto con la frazione numero 16 da sabbio chiese al monte bondone quindi un nuovo arrivo in salita una tappa che non dà respiro negli ultimi 130 chilometri e pochissimi tratti di pianura e diverse salite il vaico di santa barbara bordana poi il matassone il serrada e finire e per finire questa scesa mitica del monte bondone mitica soprattutto per il nome perché in realtà si viene affrontata da un versante inedito quello di aldeno ecco diciamo che la salita finale rispetto al versante tradizionale di trento presenta dei tratti più impegnativi ma anche una scesa più irregolare quindi tratti più impegnativi ma anche tratti che consentono di fiatare andiamo comunque a vedere in dettaglio e le salite di questa importante tappa che si disputa nel trentino si comincia con il santa barbara ricordate la famosa tappa del 2002 con la crisi di cade l'evance la vittoria di pavel tonkov e un savoldelli che indossò la maglia rosa per portarla fino a minano e la prima salita vera di quel giorno fu proprio il santa barbara e a seguire quella più breve del bordale santa barbara una salita dura 12,7 chilometri all'8,3 per cento ma molto dura soprattutto nei primi 10 perché in cui c'è una punta del 14 e pendenze comunque sempre intorno al 9 10 poi c'è una breve discesa il più pedalabile bordala e quindi a seguire ci sarà la salita del serrada una salita non durissima 17,7 chilometri al 5,5 per cento con diversi tratti anche in falso piano e quindi ci sarà l'ascesa finale del monte bondone una salita di 21,4 chilometri al 6,7 per cento diciamo che il punto chiave parte a meno 10 dalla vetta in precedenza c'è un tratto di falso piano che potrebbe scoraggiare gli attacchi fin dall'inizio della salita però appunto negli ultimi 10 chilometri a parte proprio il tratto finale non dando quasi più respiro e c'è un lungo tratto come potete vedere all'8,2 per cento tra i meno 10 e i meno 3 dalla vetta con una punta anche del quiggio sicuramente gli uomini di classifica si danno battaglia anche perché ripetiamo è una tappa che negli ultimi 130 chilometri circa non presenta quasi un metro di pianura anche se a parte la santa barbara le altre salite non sono durissime a parte santa barbara e ovviamente a parte l'ascesa finale Passiamo ora alla diciassettesima tappa che è la più facile di questo giro 197 chilometri da Pergine Valsugana a Caole ovviamente questa è una tappa per velocisti come potete vedere non c'è uno straccio di salita in questa frazione mentre invece di salita tornerà esserci nella frazione numero 18 da Oderzo a Val di Zoldo anche se tutto si deciderà negli ultimi probabilmente 30 chilometri in avvio c'è il passo della cosetta una salita piuttosto lunga contrassegnata come GPM di prima categoria dove potrebbe diciamo da dove potrebbe scaturire la fuga di giornata in questo tipo di tappe più facile che le fughe partano vanno via di forza in salita piuttosto che in pianura non fosse altro perché un po tutti vorranno andare in fuga ovviamente la classifica già ben definita a questo punto del giro siamo ormai quasi alla fine poi ci sarà lo strappo di piede al pago però le grandi difficoltà si hanno concentrate al finale con la forcella cibiana seguita dalla discesa e poi subito dopo la durissima salita di Koi e poi brevissima discesa e ancora uno strappo per arrivare al traguardo di Val di Zoldo andiamo a vedere che cosa ci può spettare in dettaglio questa fazione analizzando le varie salite questa qui è la carosetta una salita regolare di 11,6 km a 7,1% con punti all'11 poi arriviamo subito al finale della corsa con la forcella cibiana una scesa molto dura negli ultimi 5 km con pendenze che arrivano fino al 15% ma una pendenza costante intorno al 9-10 negli ultimi 5 km poi discesa e si torna subito quasi subito a salire verso Koi ecco la salita di Koi presenta una punta addirittura del 19% molto dura nel tratto finale insomma ci sono delle pendenze che certamente consentono di fare la differenza poi c'è la breve discesa e poi la salita finale più pedalabile verso Val di Zoldo e poi l'ultimo 2,7 km al 6,4% con una punta del 10 però spiana un po' proprio con l'approssimarsi del traguardo in ogni caso un'altra occasione importante per gli uomini di classifica anche se poi questa tappa di Val di Zoldo è solo antipasto visto le due giornate che seguiranno andiamo a vedere infatti la diciannovesima tappa da Logarone alle Tre Cime di Lavaredo 183 km frazione non lunghissima ma è frazione che non dà assolutamente respiro negli ultimi 130 km poi decidete voi se la tappa regina di questo giro è questa oppure quella di Gran Montanà però ripeto a differenza della frazione che si conclude in Svizzera le salite nel complesso sono un po' meno lunghe però non c'è nessun tratto di piaduro quasi tra una salita e l'altra qualora un corridore di classifica per esempio fosse piuttosto lontano dalla Maglia Rosa e volesse provare a inventarsi qualcosa il terreno per farlo c'è già come minimo dal passo già un poi però in precedenza ci sono già delle salite piuttosto impegnative come il passo di Campolongo e il passo di Valparola tradizionali vette dolomitiche quindi c'è una salita durissima come il passo Giao e poi a seguire dopo la discesa il passo Tre Croci e poi la tremenda salita finale delle Tre Cime di Lavaredo dove insomma ricorderete tutti Vincenzo Nibali dominare sotto la neve in Maglia Rosa nel 2013 insomma in una di quelle che fu una delle più grandi imprese della carriera, dello squalo e dello stretto andiamo comunque a vedere in dettaglio le salite questo è il passo di Campolongo qui è contrassegnato come una salita di 3,9 km a 7% ma come abbiamo visto la strada inizia a salire da molto prima già dalla località Caprile da dove inizia anche la salita del passo Fedaia che però non verrà affrontata in questo giro a differenza di quanto accaduto un anno fa dove fu decisiva nel portare la vittoria a Indli a discapito di Nicarapaz che era in Maglia Rosa dopo il Campolongo ci sarà il passo di Valparola una salita di 14,1 km a 5,6% ma sicuramente più dura nella sua seconda parte qui un corridore come Nibali su questa salita andò in difficoltà nel 2016 fu staccato da Chavez che vinse quella tappa che si concluderà a Corvara e da Kroisvik però poi Nibali si rifece alla grande sulle Alpi Piemontesi e andò a vincere quel Giro d'Italia poi ci sarà appunto una salita durissima il passo già una salita in realtà piuttosto regolare una salita sostanzialmente di 10 km al 10% di pendenza media 9,9 al 9,3 per l'esattezza è una salita ovviamente affrontata più volte al giro negli ultimi anni e poi il gran finale con il passo tre croci una scesa relativamente pedalabile di 7,2 di 7,9 km a 7,2% e siamo già nel finale della tappa e nel finale del giro quindi la fatica già si farà sentire a questo punto e poi però ci sarà la tremenda salita finale verso le tre cime ci sarà già uno strappo al 18% subito dopo la località di Misurina e poi soprattutto gli ultimi 4 km che presentano una pendenza media dell'11,7% con punti al 18 in questi ultimi 4 km ci sarà sicuramente grande selezione anche perché i corritori appunto hanno nelle gambe già la tappa del Bondone e hanno nelle gambe il Campolongo, il Valparole, il Jau e il Trecroci insomma nei chilometri precedenti tuttavia non finisce qui perché l'ultima tappa decisiva del giro sarà una crono scalata durissima che andiamo a vedere da Tarvisio a Montelussari crono scalata forse un termine non proprio del tutto corretto perché in realtà è una crono divisa in due i primi dieci chilometri sono sostanzialmente pianeggianti mentre invece gli ultimi otto chilometri sono tremendi presentano, se si accettano il tratto finale in questa piana presentano pendenze simili a quelle dello Zoncolan pendenze insomma che non si trovano in quasi nessun'altra salita in Italia e non solo andiamo a vedere infatti come sono da cosa sono caratterizzati questi ultimi 8 chilometri 7,3 per l'esattezza con una pendenza media del 15% ripeto pendenza media con punte del 22 per 5 chilometri e poi negli ultimi tre ci sono tratti meno impegnativi ma ancora uno strappo del 22 per cento fino ad arrivare appunto ai 1760 metri di Montelussari una tappa ovviamente durissima una tappa in cui se un uomo di classifica va in crisi può perdere anche due o tre minuti nonostante che sia una salita relativamente breve quella del Montelussari appunto 7,5 chilometri tra l'altro era da molto tempo che il Giro d'Italia non prevedeva nel suo percorso una coroscalata e l'ultima volta fu nel 2016 all'Alpe di Siusi e dove anche lì Nibali ebbe delle difficoltà in quel giorno vinse a sorpresa il Russo Foliforov con lo stesso tempo di Kreuzvik però appunto ricordiamo che Nibali si riprese alla grande nel finale del Giro qui non ci sarà tempo per riprendersi perché questa è l'ultima grande tappa che vedrà diciamo allo scoperto gli uomini di classifica infatti siamo arrivati ormai alla fine di questo lungo viaggio la ventunesima tappa sarà la passerella finale in quel di Roma 126 chilometri ovviamente per velocisti e quindi direi che possiamo chiudere qui con questo video di presentazione del percorso di questo Giro d'Italia 2023 un Giro d'Italia certamente per scalatori ma in cui bisogna andare forte anche a cronometro perché visto che ci sono una settantina insomma di chilometri a cronometro di cui 60 verso che pianeggianti a parte gli ultimi che portano a Montelussari una tappa in cui i velocisti avranno le loro occasioni ma se le dovranno quasi tutte guadagnare se si eccetto la tappa di Caole e appunto quella conclusiva di Roma ecco forse non ci sono tantissimi arrivi per finissere penso solo potrebbero esserci tappe adatte a loro come quella di Fossombrone o piuttosto quella di Bergamo comunque vi accompagneremo giorno per giorno in queste tre settimane facendo i consulti video al termine di ognuna delle tappe più impegnative di questa corsa rosa appuntamento quindi a domani con la start list e ciao a tutti ecco